Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Iniziamo questo appuntamento con l'informatica, la musica, la letteratura e la scrittura. Di che cosa parleremo in questa mezz'ora insieme? Allora, parleremo di contaminazioni artistiche, contaminazioni di generi, ma soprattutto visto che siamo ai Bito Vistory, che è un appuntamento dedicato anche ai giovani, alle scuole e comunque ad un pubblico eterogeneo, abbiamo immaginato di portare una testimonianza rispetto a quello che stiamo portando avanti con il progetto Stravinsky Reloaded. L'appuntamento e l'incontro si chiama 1910-2020 Stravinsky Reloaded e sono riflessioni e contaminazioni che riguardano l'ambito dell'informatica, della musica e della scrittura e lo abbiamo così voluto in qualche modo connotare con tutta colpa dell'innovazione dei linguaggi. Questo è un progetto che ho immaginato per i giovani e per qualsiasi tipologia di figura che vuole introdursi all'interno di un nuovo modo di concepire l'arte, la cultura, la letteratura e abbiamo iniziato a lavorare su quelli che sono degli elementi, degli elementi su cui partire. Perché 1910? Perché 1910 è la prima opera che Stravinsky fa per il balletto commissionata da Diaghilev e perché Stravinsky? Perché è un innovatore sicuramente, perché noi dobbiamo raccontare ai giovani, perché noi dobbiamo comunque focalizzarci su degli aspetti che l'innovazione di cui oggi tutti i giorni sentiamo parlare non è un'innovazione che esiste solo adesso, ma inizia e continua a proseguire dalla capacità creativa, dalla visione, dalla lungimiranza di grandi persone, di persone che hanno una grandissima capacità di guardare oltre, di andare nello scenario e immaginarsi delle opportunità. Io nella vita insegno, insegno comunicazione e faccio formazione, però come vedremo più avanti ho una società che si occupa di comunicazione e anche di formazione delle imprese. Su questo progetto noi abbiamo voluto immaginare il coinvolgimento delle scuole, il coinvolgimento di giovani esterni, di persone che amano l'arte, che amano la danza, la letteratura, la cultura più in generale. E quindi siamo partiti da una ricerca e una sperimentazione su cui riflettere. Riflettere perché? Perché oggi tutti i giovani vivono con lo smartphone in mano, perché oggi i giovani hanno la multicanalità nel sangue, loro sono nati con questi strumenti, sono nati con la tecnologia, con il digitale. Per loro l'informatica è qualcosa che esiste da sempre. E quindi abbiamo deciso di supportarli attraverso la consapevolezza di quello che è invece l'importanza di un mondo che non è semplicemente virtuale, ma è un mondo che ci dà una serie di grandi opportunità, uno strumento attraverso il quale poter crescere, uno strumento attraverso il quale poter avere delle opportunità creative di ispirazione e anche di innovazione, ma deve essere uno strumento e non un fine. Il fine è la vita, il fine è continuare ad avere una socialità, il fine è continuare ad avere dei valori, delle aspirazioni e vivere quotidianamente la giornata come deve essere vissuta. Allora, questo è il progetto da cui siamo partiti. Stravinsky diceva, la musica è incapace di esprimere niente altro che se stessa, cioè non esiste altro che il suo essere. E quindi come possiamo noi creare, come possiamo inserirci in questo mood, lo chiameremo oggi? Allora, in Francia si diceva l'art pour l'art, in Inghilterra era art for art's sake. Stravinsky è oggi, 1910, quello che lui ha iniziato ad immaginare, quello che lui ha creato nella sua straordinaria capacità creativa e 2020 è l'Uccello di fuoco, che è un progetto di giovani per i giovani, che nasce sulle punte, per cui diventa un balletto in danza classica, contemporanea scusate, e lavora in funzione di trasmettere un messaggio, un messaggio che si contamini di digitale, un messaggio che scorra sui social, un messaggio che parta da quello che è la prima influenza, e quindi loro che cosa fanno? Viaggiano con gli smartphone, parlano attraverso WhatsApp, si scrivono nelle chat di Instagram, fanno musical.ly, lavorano costantemente con questo digitale, con queste contaminazioni artistiche, ma contemporaneamente hanno la possibilità invece di vivere delle emozioni, e queste emozioni nascono principalmente all'inizio del progetto con la danza, ma si evolvono in street art, si evolvono in composizione di parti letterarie, si evolvono in sperimentazioni a livello informatico. Cosa stava succedendo in quella stessa epoca? Come si stava evolvendo l'informazione e la tecnologia? La musica oggi è un linguaggio, è un linguaggio che si attualizza costantemente e che anche grazie alla tecnologia dialoga in maniera sempre più nuova con le nuove generazioni. È di pochi giorni la notizia che su Instagram sarà inserita la possibilità di mettere una colonna sonora, perché? Perché è diventata un'esigenza, perché la musica è parte di tutto quel vissuto che noi quotidianamente abbiamo bisogno di esprimere. E dove si parla di creatività? Quindi c'è l'immagine su Instagram, c'è la visione, c'è il loro modo di catturare la realtà e di fermarla, in maniera talvolta anche un po' distorta purtroppo, ma educandoli alla consapevolezza si può anche fare capire che l'immagine, e qui rientra un altro aspetto del progetto che riguarda la fotografia, è perché il ritratto, ed è il ritratto storico nella fotografia, diventa un mezzo di comunicazione, diventa un messaggio per i giovani. Imparate a non fare la foto con dei fini magari negativi per sbeffeggiare, per prendere in giro, ma fatelo con una consapevolezza ulteriore, cioè cercate di valorizzare, cercate di guardare i sentimenti. E questo progetto è un po' questo. Allora la musica diventa un elemento necessario che arricchisce, è un nuovo canale. Loro fanno i musicali, i giovani hanno questi nuovi social, e mai fino a questo momento avremmo immaginato ah, i video in verticale, quindi se ancora oggi, e prima lo dicevamo con la Rai, per sua natura il video è in orizzontale, e oggi loro lo immaginano in verticale ed esiste. E la capacità di ballare, di muoversi, di avere questi dialoghi con altri ragazzi all'interno di uno stesso canale, diventa un nuovo strumento, ma sempre uno strumento con il quale poter esprimere al meglio la propria creatività. Musica è anche reinterpretazione, i social quindi diventano una possibilità di reinterpretare quello che può essere il loro vissuto, il loro vivere. Ovvio che noi dobbiamo insegnare a loro a usare consapevolmente tutti gli strumenti, ad avere una giusta distinzione tra virtuale, cioè non siamo in un videogame, ma è un qualche cosa che può avere delle conseguenze e soprattutto possiamo nello stesso tempo esprimere al meglio la nostra creatività. NetLife Lab, come vi dicevo, è una parte della società che si dedica completamente ai laboratori e per cui è a disposizione della società contemporanea, del territorio, che può essere quello locale, ma anche quello nazionale, dove sperimentare tutta questa serie di opportunità che giovani, meno giovani, teatro, danza, fotografia, pittura, lavorano in contemporanea. Quello che io ho sempre fatto e in cui ho sempre creduto è sicuramente il mondo dell'informatica. Mi sono innamorata della rete nel 1997 e quando ero alle medie si programmava in Turbo Pascal e questo è stato un retaggio che mi sono portata dietro, mi è sempre piaciuto moltissimo. Mi sono laureata in lingue e letterature straniere e ho preso un indirizzo filologico letterario, per cui per i filologi io ero sempre l'informatica perché sapevo utilizzare il computer, perché sfruttavo gli strumenti del digitale per valorizzare e per costruire degli apparati digitali, per cui gli archivi delle informazioni si decodificava, si creava un codice, si taggava il testo antico e lo si portava in un codice contemporaneo per farne fruire dal web e per poter creare delle relazioni a livello di interrogazione e questo diciamo che nel 2000 era un qualche cosa di innovativo per il mondo letterario, ma in Italia soprattutto, e quindi io diventavo l'informatica, mentre per gli informatici ero comunque un umanista e quindi vivevo sempre in questa forma di equilibrio tra una parte e l'altra. Piano piano si è contaminata sempre di più e oggi tutti noi lavoriamo in testi online, ricerca, relazioni, mappatura, le mappe concettuali sono all'ordine del giorno, dalla mappatura d'albero a quella stella, alla creazione di relazioni, di reticoli importanti, è diventato parte del nostro essere stesso e come? Ci siamo contaminati di tutta questa serie di input che ci arrivavano dall'informatica e quindi da lì abbiamo creato anche questa nostra cultura digitale e che dobbiamo sempre di più promuovere, valorizzare e utilizzare con consapevolezza. Quindi nasce questo laboratorio di ricerca e sperimentazione dove possiamo costantemente creare quella che è una narrazione sociale, quindi una storia, una storia in cui ognuno di noi è in grado di portare una parte dalla fotografia al video, alla musica, attraverso una costruzione collaborativa e dove costantemente anche all'interno delle scuole possiamo sperimentare anche con dei fini sociali, cioè fare capire ai ragazzi che in questa logica e con queste opportunità si può andare contro atteggiamenti di bullismo che possono essere invece anche causati da una mancanza di consapevolezza nell'uso di questi strumenti. Allora, perché prende spunto da questa data? Dicevamo che nel 1910 il compositore Stravinsky, commissionato da Diaghilev, crea la musica, compone l'uccello di fuoco e quindi noi decidiamo di immaginarci questo viaggio che dal 1910 ci porta al 2020 costantemente con grande consapevolezza. da una parte attraverso la storia dell'informatica che i ragazzi ricercano e costruiscono con una loro narrazione personale arricchita da tutta una serie di elementi che sono dalla street art quindi ai writers che abbelliscono le scuole le rendono contemporanee le personalizzano le fanno loro a quelli che possono essere degli inneschi legati alla musica legati all'arte alla letteratura. Innanzitutto è un progetto fatto con passione ma la passione è quella dei ragazzi è quella delle persone che sono coinvolte sono i laboratori teatrali sono persone di qualsiasi genere di qualsiasi età che hanno voglia di mettersi in gioco. Contaminazione perché? Perché quando un anziano viene e prende parte a questo progetto attraverso l'esperienza teatrale l'esperienza di inserimento all'interno di un contesto sociale come quello creativo che cosa fa? Lavora e si avvicina in qualche modo viene contaminato dal digitale viene stimolato all'utilizzo e quindi c'è in qualche maniera un progresso anche dal punto di vista dell'informatica della consapevolezza di come la tecnologia oggi può aiutare e può creare delle opportunità. informatica quindi sono gli elementi scrittura, musica e linguaggi sono gli elementi che caratterizzano questo progetto e che offrono tutta una serie di stimoli per cui è un progetto in continua evoluzione. Il progetto che cos'ha? Ha uno scopo quello di fare riflettere come dicevamo prima è riflessione sulla società e sui suoi cambiamenti facendo scorrere in un circuito un messaggio positivo è uno spettacolo in danza è un progetto contro il bullismo è street art è fotografie musica è teatro letteratura sono occasioni di incontro in una società in costante cambiamento e questo cambiamento lo dobbiamo fare noi ma con la consapevolezza di una storia alle spalle Igor Stravinsky perché? Perché ci ha ispirato perché comunque le sue opere reinventarono il genere del balletto e da lì siamo partiti con il progetto il primo esempio è stato questo balletto in danza contemporanea dell'uccello di fuoco con una compagnia junior e quindi ragazzi che si raccontano i ragazzi giovani e giovanissimi che si raccontano alla loro età e che cosa? Il cosmopolitismo l'eterogeneità la capacità di inclusione di questo personaggio ecco qui deriva la mia fonte di ispirazione quindi parliamo di una produzione etereogenea stili diversi quello che noi oggi facciamo quotidianamente e a volte non rendendocene conto si cimentò in tutti i generi musicali reinventò la forma del balletto e incorporò nel suo linguaggio musicale culture e tradizioni tra loro lontane nel tempo e nello spazio ecco perché abbiamo deciso di scegliere Igor Stravinsky e di portare questa sua capacità e parliamo del 1900 in una realtà che è davvero distante ma se vogliamo andare a vedere oggi avviene esattamente la stessa cosa e oggi possiamo provare lo stesso amore la stessa passione la stessa creatività anche nella nostra società riportando tutta una serie di elementi che cosa si diceva di lui allora un Claude Debussy diceva il mio uccello di fuoco la mia sagra come un bambino direbbe la mia trottola il mio cerchio è proprio un bambino viziato che ogni tanto mette le dita nella musica si aggira come un giovane selvaggio con cravate da pugno nell'occhio baciando la mano alle signore mentre al contempo pesta loro i piedi da vecchio sarà insopportabile o meglio non sopporterà nessuna musica ma per ora è straordinario ecco è la società contemporanea noi oggi siamo esattamente questo siamo contestualmente delle persone che vogliono apparire che vogliono essere in qualche modo notate fuori dai canoni ma allo stesso tempo abbiamo della grande creatività quello che emerge dalle nuove generazioni è questa grandissima capacità creativa questa grandissima capacità di inventarsi e reinventarsi innovatore quindi in grado di inventarsi e reinventarsi riprodusse la musica e diciamo ricreò con quello che lui definì prestito compositivo e innovò anche nell'uso dello sfruttamento dei toni estremi raggiungibili dagli strumenti musicali oggi noi lo facciamo quotidianamente con il digitale cioè arriviamo a sperimentare cose che vogliamo raggiungere e che forse prima non potevamo raggiungere oggi grazie al digitale la musica ha tutta una serie di figure nuove e si inserisce con delle opportunità chiunque può attraverso un software attraverso un sistema anche non esageratamente costoso sperimentare e scoprire quella che è la sua la propria creatività e quindi fu un grande anche studioso di letteratura e scrisse anche opere letterarie addirittura nel 1939 venne invitato ad Harvard per un corso sulla poetica musicale e quindi è un artista eclettico collaborò addirittura con Picasso per la scena di Pulcinella nel 1910 con Jean Cocteau per l'Oedipus Rex nel 1927 e con Balanchine per l'Apollon Musaget nel 1921 per cui esattamente quello che facciamo noi oggi grazie alla multicanalità lui riusciva a farlo con la contaminazione sociale incontrando queste persone allora qual è il messaggio che possiamo restituire sicuramente un messaggio di torniamo nella società contemporanea torniamo nella società incontriamoci mettiamoci in una sala e lavoriamo costantemente perché ci sia l'opportunità di in qualche modo mescolare le competenze nascono i co-working siamo esattamente in una struttura che racconta questo progetto cioè perché oggi funzionano bene questi luoghi queste location innovative perché ciascuno di noi ha l'opportunità di incontrare altre persone e attraverso le competenze diverse riuscire a creare un nuovo concetto delle nuove caratteristiche servizi valorizzare sperimentare costruire innovazione contaminazione di linguaggi e come dicevamo rielaborazione quindi sono questi gli elementi che hanno ispirato il progetto alla base di tutto questo c'è una mia sceneggiatura e questa volta la sceneggiatura non è per il cinema è una sceneggiatura che non porta dialoghi con parole scritte o meglio queste parole scritte nascono come parole scritte e poi vengono tradotte in passi di danza per cui il testo scritto la parola che avrebbe dovuto essere pronunciata diventa silenzio diventa gesto diventa movimento e quindi oggi che cosa possiamo fare? possiamo sperimentare possiamo creare possiamo costruire ecco è proprio dalla prima opera commissionata da di Agilev a Igor Stravinsky che prende vita il progetto L'Uccello di Fuoco Libertà di Essere e che cos'è? allora L'Uccello di Fuoco nel 1910 era una fiaba era una fiaba russa classica dove c'era il personaggio buono e l'antagonista che era lo stregone negativo e che portava quindi lo svolgimento della storia in un continuo contrasto tra i personaggi positivi e il personaggio negativo dove bene e male si in qualche modo dialogavano costantemente e si contrastavano nell'Uccello di Fuoco contemporaneo che cosa c'è? c'è una società c'è una società che è diventata in qualche modo una società isolata perché? perché è completamente proiettata attraverso uno smartphone attraverso una vita che non è reale ma è una vita parziale è forse quasi un videogame io voglio essere quella persona lì mi faccio vedere bellissima nelle foto faccio i musical lì nelle posizioni migliori scelgo la location ideale e però mi ritrovo in certi momenti completamente da solo completamente isolato senza la possibilità di dialogare dialogo ma dialogo attraverso una chat e forse non è quello di cui ho bisogno forse ho bisogno di un abbraccio forse ho bisogno di guardare qualcuno negli occhi per dire non ce la faccio più forse è difficile e la cronaca purtroppo ci racconta tutto questo quotidianamente allora cos'è libertà di essere è la capacità dentro ciascuno di noi di poter ritrovare la fiammella di poter riattivare il circuito all'interno del quale far vivere le emozioni è sperimentazione è far sentire questa musica ma dare la possibilità ai giovani di inserire il loro innesto digitale è la possibilità di fare scrivere una parte che forse qualcuno vorrebbe urlare vorrebbe leggere o addirittura vorrebbe piangere davanti alle altre persone e quindi ecco che la contaminazione di generi partendo dall'ascolto della musica rielaborandola attraverso sistemi informatici software lavorando con l'opportunità che il digitale ci offre quindi dicendo come posso io creare la mia libertà il mio uccello di fuoco cioè il mio bene che contrasta il mio male qual è allora chi è lo stregone in questa reinterpretazione lo stregone è esattamente l'uccello di fuoco perché noi viviamo in questa dualità in questo momento tra reale e virtuale e dobbiamo arrivare e raggiungere questa consapevolezza cioè dire noi viviamo in questa realtà il digitale l'innovazione sono delle grandissime opportunità che ci permetteranno di crescere che ci permetteranno di allargare la nostra creatività ma non sono il fine il fine è un'altra cosa il fine che cos'è la nostra riflessione grazie 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 a tutti grazie a tutti